Ti vogliono sposare, facciano questo di ridicolo, è ridicolo ma lo possono fare, ma andare contro la natura, e essi a casa un bambino che non è tuo, oppure un bambino fatto in una maniera, fa e vivi la tua vita, io purtroppo non lo sono, non l'ho fatto, non lo posso fare, ma perché parlare, andare contro la natura, perché? Mi sembra che lei non è favorevole nemmeno al riconoscimento dell'unione, non solo l'adozione. No, quello può fare, sento che è ridicolo, però va bene, non lo nego, non lo nego, però... Ti posso dire, Renato, se in questo momento della tua vita c'è ancora a parte dell'amore? Qualche tipo di ragione? La donna, se ce l'hai ancora a parte dell'amore, la femmina è la natura. La porterà a ballare? Dico una vulgarità. La porta a ballare? La porterà a ballare? Non so più, non so più. Ho avuto una, due mesi fa, l'ho cacciata via perché mi dice, ma non mi fai mai stare a casa tua, ma ho letto a casa tua. Ma che? Ho fatto 80 anni. Grazie mille, bocca al lupo. Grazie, bocca al lupo. Per tutto.